Matteo Salvini insieme a Susanna Ceccardi, candidata presidente della Regione Toscana per il centrodestra, hanno scelto Prato per lanciare, per il voto del 20 settembre, due temi che ritengono fondamentali, un nuovo progetto per l'aeroporto e i termovalorizzatori. Il tour è iniziato alla tazza d'oro con ben 150 persone che hanno voluto salutare e prendere il caffè con il premier della Lega e poi i due si sono spostati in Via Valentini per incontrare una rappresentanza di Confindustria Toscana Nord. Il giro si è chiuso all'associazione Stremaro a Bagnolo, che si occupa di aiuti alimentari alle famiglie bisognose. Ceccardi e Salvini si ritengono soddisfatti e stata una riunione utile, concreta, tecnica, poco politica e poco romana e molto toscana, dice il leader dell'opposizione, le aziende chiedono una regione amica e non nemica con meno burocrazia, investimenti sull'ambiente e sulla termovalorizzazione. I rifiuti devono diventare energia, ricchezza, calore e la bolletta non può essere folle. Ma vogliono anche infrastrutture che non ci sono da decenni Il mondo delle imprese vede il futuro e ha voglia di cambiamento Noi cercheremo di sviluppare una regione diversa con poche promesse e tanti impegni concreti Tra le infrastrutture torna in gioco l'aeroporto Serve raggiungere Firenze e la Toscana in maniera più facile e diretta Continua il numero uno della Lega, ma con dei progetti che stiano in piedi non come quelli che sono stati contestati dai comuni limitrofi, dalla Commissione europea e dai tribunali Bisogna rivedere quel progetto La Toscana è sempre stata comandata dalla sinistra e se l'aeroporto è in quelle condizioni, non c'è lo stadio e un terzo della rete ferroviaria va a gasolio non può essere colpa della Lega di Salvini Citofonate a Renzi e al Pidi Un altro tema è quello dei rifiuti e dei termovalorizzatori Ne serve uno per ogni provincia In Europa hanno i parchi giochi per i bambini in cima o le pista da sci I toscani pagano più di altri e hanno meno servizi e questa è una ideologia della vecchia sinistra che dice no allo sviluppo, al futuro e quindi su questo la vicina Emilia e Lombardia che ne hanno 8 e 13 rispettivamente e soprattutto pagano meno sui rifiuti Sui fondi europei, Salvini ribadisce la sua contrarietà al MES Il problema di questo governo ed è l'Europa è che parla di soldi che forse arriveranno l'anno prossimo, continua Salvini, gli imprenditori toscani hanno bisogno di aiuti adesso, perché solo in Toscana si rischiano 150.000 posti di lavoro Non abbiamo bisogno di MES ma di soldi veri che il governo può recuperare e mettendo buoni del tesoro già oggi, non l'anno prossimo Dall'Europa alla solidarietà, ma per i toscani Vedo una Toscana bella ricca e solidale ma lo deve essere prima con i toscani che hanno bisogno, continua Salvini, ho incontrato una signora che dopo una vita di lavoro dorme in macchina perché per lei una casa popolare non c'è Bisogna essere solidali, generosi e accoglienti ma prima con i toscani che ne hanno bisogno Sono venuto per le imprese e il volontariato, conclude Salvini, è il modo per ringraziare la comunità di Prato Se a sinistra rimangono gli insulti vuol dire che sono preoccupati e c'è una bella e sana voglia di cambiamento e per la prima volta nella storia c'è una squadra compatta Dall'altra parte c'è la stessa offerta da 50 anni Non vedo l'ora che arrivi settembre Di solito è Susanna, ceccar di NDR, a richiamarmi all'ordine visto il caratterino che ha